Manny. Dai. Prima le signore. Un mese in più e non sarei passata. Prego, Eddie. Hai detto le signore? Mi piace. Ok. Abby, mi ricorda la serra di tuo padre. Non direi. Qui le piante sono vive. Hai ragione. Sai cosa? Meglio così. Mi serviva per rinsaldare il legame. Stai il Tomeni. Stai il Tomeni. Avete visto? cia. Dio. Vori. Per rinca. Corso. Corso. Per rinca. Per rinca. Grazie. 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 Una la... Sì. Conosco un gioco proprio a casa. Magari dopo. Grazie. 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 Ma neanche nostra. Li hanno uccisi loro. Ok. Tocchiamo ferro. Qui sembra tutto carico. Occhio alle linee di tiro. Qua su. Manny, va a vedere su. Ok. Dobbiamo superare questa recensione. Tagliamo da uno degli edifici? È un idea migliore. Ti chiamo, hai figliato qualcosa? No. Era per dire. Mel, resta con Alice. Io provo ad aprire la porta. Cerco un ingresso per voi. Ok. Ok. Allora? Ancora niente iene. L'avranno rinunciato? Simpatico. No. Ottimista. Oh. È un bel salto. Sì. Direi di sì. Ah! Perfetto. Perfetto. Ok, Mel. Siamo dentro. Io sono alla porta. Ok. Vieni. Presta. Vai. Grazie. Sì, di niente. Di qua. Wow. Guardate qui. È un campiere per parte. Tendiamoci questo posto. a comando cercano sempre partiti di cambio. per placed me, non capire per. Spost cá inarciò per sguardo per mesirty. Plattini. A qui. Da. Wow. Sì, svio. Sì. Grazie. Grazie. Ok. Tengo io qui. Tanto. Non ci posso. Da scusa. Ehi, state bene? Sì. Si è rotta. E adesso? Abby, guarda. Un passaggio. Manny e Abby fede, stiamo cercando un modo per salire sul tetto. Ok. Beh, contenta di essere venuta con noi. Sì. Ricordami di ringrazio, Manny. Sono contenta di essere qui. Almeno in caso di problemi posso darvi una mano. Ok. Sì. Grazie a tutti. 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 Grazie. Ok, ci avviciniamo al lucernario. Vediamo. Ehi, giusto. Mi ricordo la barca di Owen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma come ci avviciniamo? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Ok, fin qui ci siamo. Grazie a tutti. Ottimo. Bella idea. Bella idea. Chissà. Wow. È un bel salto. soffri di vertigini? Soffri di vertigini? No. È un bel salto. È un bel salto. È un bel salto. Andiamo. 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 eh. Alice?! Bella cucciolona. Ce ne avete messo di tempo! Calma piatta qui? Sì. Non mi piace. beh siamo quasi all'avamposto arriviamo a casa mi piazzo sul divano film e bevo fino a svenire ah sì cosa bevi che film guardi domande difficili il film è quello con come si chiama la ragazza che cavalca il lupo bellissimo e da bere il mio mescal dell'ultima festa vuoi dire il nostro mescal sì sì te ne lascio un po anch'io verrei volentieri qualcosa ma sono troppo incinta sì 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 Grazie a tutti. Ok, interessante. Grazie a tutti. 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 Non siamo soli. Grazie a tutti. 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 Bel colpo. No, no. Non sono lontani. No. 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 Vieni dietro! Ti prenderemo! Dentro, forza! Lascialo, ragazzino! Cala stazione di servizio! Il lupo non sa con... Il lupo non sa con – Il lupo non si occasional, non lo so... Nio! A riparo! Via! A riparo! Andiamo! Fate le tessite! Andiamo prima che arrivi due altre schifze. Vi amo, giuro! Darò i vostri nomi a tutti i miei figli! Forza, dobbiamo andarcene da qui! Pronta? Pronta? Merda! Cazzo, stai bene? Credo sopravviverò! Vieni! Ehi, fammi vedere lui! Ci siamo! Oh! Lo so, ci siamo quasi. Apri il cancello! Devono passare! Mel. Cosa? La schiena. Stringi più forte che puoi, ok? Porca merda. Non me ne ero accorta. Ehi! Sono in due. Ha una ferita d'arma da fuoco... alla mano. Ehi. Sei stata brava prima. Sembra un complimento. Penso a stare bene. Sta qui, Eris. Vieni, da questa parte. Siediti. Ha perso un bel po' di sangue. Non dovrebbe uscire. Andrà bene. Andrà bene. Andrà tutto bene. Andrà bene. Andrà bene. Andrà tutto bene. Ehi, che abbiamo qui? Su, Pico. Lei è Elis. Su, Elis. Sta brava. Grazie. Questa nuova è recluta. Non mi fido. Grazie ancora, gente. Ehi, Manny, aspetta. Siamo fermi qui da tre giorni, ma nessuno ci dice niente. Ringraziateci voi per questa botta di vita. Dai, ce lo dovete. Potete informarvi. Ok, ma prima le formalità. Ci vediamo dopo. Ok, perfetto, grazie. Ma che succede? Ah, non lo so.